Quattro torri, due scivoli, tre ponti, una risalita ed infine una pertica. Arriva al Parco del Pionta una nuova area giochi con tanto di castello. È un segnale veramente forte e importante quello che vogliamo dare ai tanti residenti della zona, ai tanti cittadini che frequentano e quelli che vorrebbero frequentare questo parco. Inizialmente avevamo pensato di installare soltanto il gioco che ha alle mie spalle, quindi il castello. Poi in corso d'opera abbiamo deciso di ampliare l'area, di fare una zona dove si gioca pallacanestro, altre altalene, giochi a molla e la teleferica che è di fronte a me. L'area verde dunque continua ad essere sotto la lente di ingrandimento dell'amministrazione comunale di Arezzo e adesso si arricchisce anche di nuove altalene e una zona basket. Speriamo che venga frequentato e rivintalizzato sempre di più questo bellissimo parco che è un polmone verde, è un'area meravigliosa, archeologica, è un pezzo di storia della nostra città. Proseguono ovviamente anche le opere per implementare la sicurezza dell'area che passerà attraverso il nuovo sistema di illuminazione pubblica e l'impianto di videosorveglianza. L'idea della recinzione è un'idea tutta da valutare perché per tutta la parte di parco che è di proprietà dell'amministrazione comunale è già tutto recintato. La parte da recintare è la parte di proprietà dell'ASL e dell'università, quindi dovremo sentire un po' gli enti dove accadono i fatti un pochino più incresciosi, quindi dovremo sentire gli enti proprietari. Ma il tema della sicurezza non riguarda unicamente il parco del Pionta o più generalmente il quartiere di Saione. Anche il centro storico negli ultimi giorni è stato teatro di un preoccupante episodio di microcriminalità. La scorsa domenica infatti 4 quindicenni e aretini sono stati rapinati e minacciati con un coltello da tre ragazzi poco più che maggiorenni per soli 20 euro nella centralissima piazza Sant'Agostino. Anche qui cerchiamo di contrastare con la videosorveglianza, abbiamo in corso l'installazione e la sostituzione di alcune telecamere proprio nel centro storico per cercare di monitorare in modo migliore quest'area importante che è appunto la zona storica della nostra città. Grazie a tutti.